Buongiorno a tutti. Per celebrare in maniera sostanziale la ricorrenza del 25 aprile ho deciso oggi e domani di leggervi alcuni passi del volume La riscossa dal 25 luglio alla liberazione scritto da Raffaele Cadorna per Rizzoli Editorie. Questo è un volume di cui già abbiamo avuto modo di parlare, edito nel dicembre 1948, quindi era già passato qualche anno dal 43-45 dalla fine della seconda guerra mondiale, ma allo stesso tempo è un contributo di altissimo livello, visto che Raffaele Cadorna oltre ad essere stato il figlio di Luigi Cadorna, il comandante supremo nei primi due anni e mezzo di guerra, oltre ad essere stato il nipote di Raffaele Cadorna Senior, il comandante del 20 settembre 1870. Le truppe italiane che entrano a Roma è stato anche comandante militare della Resistenza al nord d'Italia e poi è stato anche capo di Stato Maggiore dell'Esercito. In questo periodo di attesa dal 45 al 48 è dipeso anche dal fatto che aveva degli incarichi istituzionali di altissimo livello che probabilmente gli impedivano di entrare anche in un discorso di natura politica. Detto questo, quindi oggi vi leggo l'ultima parte del capitolo intitolato La Vigilia dell'Insurrezione, un passo relativamente breve, e poi domani invece vi leggerò il capitolo intero, se riesco, dell'Insurrezione. Vediamo cammin facendo, l'intenzione è questa, vediamo un po' come si sviluppa la questione. Quindi diciamo che in questo capitolo La Vigilia dell'Insurrezione, diciamo, emergono i presupposti per fare la trattativa, una trattativa con diversi interlocutori che potessero essere a Milano a fine dell'aprile del 45, con i tedeschi, con l'autorità dell'Arcivescovado, con i fascisti, con Mussolini e con ovviamente le componenti partitiche del CLN, quindi con una serie di anime diverse che in qualche modo hanno delle sensibilità diverse, oltre al fatto alle influenze alleate che comunque hanno il loro peso come una sorta di convitato di pietra all'interno di queste trattative. Ebbene, quindi siamo riferiti alle ore precedenti all'Insurrezione. In serata mi incontrai nuovamente con Arpesani e Marazza, i quali mi informarono degli ulteriori progressi fatti dalle trattative, in particolare del passo fatto da Mussolini per trattare con me, mi misi a loro disposizione. In complesso si sentiva nell'aria che eravamo alla vigilia di avvenimenti decisivi, però le febbrili occupazioni di quei primi giorni, la necessità di numerose prese di contatto, mi avevano impedito di approfondire la situazione. Per tale ragione fui colto quasi di sorpresa allorché nel pomeriggio del 25 aprile, trovandomi in via Telesio nello studio del dottor Merlini, fu raggiunto da Monsignor Corbella, il quale mi disse, incaricato di condurmi in Arcivescovato, per prendere parte assieme all'Avvocato Marazza, delegato del CLN AI Alta Italia, a un colloquio che Mussolini aveva sollecitato di avere con me tramite il cardinale Schuster. È impossibile in questa narrazione saltare a pie pari lo storico convegno, ma d'altra parte questo argomento è stato tante volte trattato che io non ritengo di avere molte novità da aggiungere. A me pure è stata mille volte rivolta la consueta domanda che viso aveva Mussolini. Era molto abbattuto da non decidermi a ripetermi se non a malincuore. Entrammo dunque verso l'ore 18 nella corte del palazzo Arcivescovile, ingombra di autocarri e di milizia armata e fummo introdotti nell'anticamera da Sua Eccellenza il Cardinale. Vidi in lontananza il maresciallo Graziani, accigliato in volto, in quel momento un signore, il comendatore Cella, incaricato di tutelare gli interessi della famiglia Mussolini, mi prese nel vano della finestra e con tono concitato mi parlò delle trattative che dovevano aver luogo soggiungendo che non si dovevano abbandonare quelle sale senza aver stretto un accordo. Fummo introdotti in altra sala dove il Cardinale Schuster si trovava in conversazione con Mussolini. Questi, al nostro sopraggiungere, alzò la testa, diede un'occhiata e quindi si diresse verso di me con passo deciso e con la mano tesa. Nella sala si trovavano già alcuni gerarchi fascisti. Il Cardinale Schuster invitò gli ospiti a sedere ed egli prese posto su un divano avendo al fianco sinistro Mussolini. Attorno e nel senso delle sfere dell'orologio, a partire da Mussolini, prendemmo posto Riccardo Lombardi, futuro prefetto di Milano, che ci aveva raggiunti in accivescovato, io, Marazza, Barracu, Zerbino, Graziani e Bassi. A seduta iniziata giunse l'avvocato Arpesani, che prese posto accanto a me. Mussolini apre il fuoco domandandomi quali condizioni eravamo disposti a fargli. Al che io risposi che, essendo argomento politico, ne lasciavo la trattazione all'avvocato Marazza, delegato del CNLAI. L'avvocato Marazza disse che poteva solo offrire la resa a discrezione. Mussolini si irrigidì alquanto e osservò che aveva accettato il colloquio perché gli erano state offerte varie garanzie per lui, per le famiglie, per i fascisti. Io intervenno osservando che gli alleati avevano deciso che a tutte le milizie repubblicane, coscritte e volontarie, venisse garantito il trattamento di prigionieri di guerra. Uno dei gerarchi osservò che essi erano tutti in mili di rufficio. Un senso di sollievo si impadronì dei presenti. Beninteso, ciò non riguarda il trattamento fatto ai singoli criminali di guerra, aggiunsi io. L'atmosfera si fece nuovamente pesante. Entrò allora in scena il maresciallo Graziani. Noi, disse, non firmeremo un accordo all'insaputo dei tedeschi perché la fedeltà all'alleato e titolo d'onore giustifica il nostro passato atteggiamento. La frase, gettata con asprezza, poteva anche essere interpretata come accusa a chi aveva scelto altra via. Pensavo di reagire in qualche modo ma fui preceduto da amarazza il quale ribatté che, in fatto di sentimento d'onore, non avevamo da ricevere lezioni da nessuno. Io osservai allora che la preoccupazione per i tedeschi era interamente fuori luogo in quanto essi da molto tempo trattavano con noi all'insaputa dei fascisti. La notizia scatenò un'esplosione di meraviglia e di sdegno. Il cardinale Schuster, che si era allontanato, riapparve con un pacco di carte. La documentazione delle trattative intercorse con i tedeschi, seppure non ancora concluse. Sua eccellenza lesse varie clause, tra l'altro l'offerta di disarmare le brigate nere. Allora Mussolini lasciò esplodere la sua indignazione. Per una volta tanto si potrà dire che la Germania ha pugnalato nella schiena l'Italia. I tedeschi ci hanno sempre trattati come schiavi. Io vado a telefonare al viceconsole tedesco Wolf e gli dirò che i tedeschi ci hanno tradito e che noi riprendiamo la nostra libertà d'azione. Cosa l'ha detto Mussolini? La conversazione si fece poi generale. Io accennai all'importanza della resa tedesca a cui la resa dei fascisti era subordinata. Mussolini disse che anche l'esercito tedesco era disintegrato. Il cardinale Schuster rinnovò l'invito a trovare un punto d'accordo per risparmiare alle popolazioni inutili, sofferenze. Graziani accennò agli eccessi che sarebbero stati commessi dai partigiani di cui aveva con sé la documentazione. Ciò per attenuare la responsabilità delle rappresaglie ordinate. Noi incalzammo che bisognava decidersi perché la situazione era critica, le folle esasperate. Da un momento all'altro la tensione poteva degenerare in fatti di violenza. Bassi, prefetto di Milano, negò che le masse si sarebbero mosse se non artificialmente eccitate al che Mussolini rispose. Per questo non mi faccio nessuna illusione. Una volta partito il primo colpo, puntini puntini, e accompagnò la frase con un gesto di cupa rassegnazione. Non avevo mai avuto occasione di vedere Mussolini da vicino, salvo quando passava in riviste e reparti dell'esercito. Ora, a pochi passi di distanza avevo seguito tutti gli atteggiamenti di quel viso così espressivo e mutevole. Dagli accenti di sdegno che accompagnava con lo sgranare di certi occhiacci, che si sa quanti bravi italiani ne erano stati terrorizzati, passava a una voce, a un'espressione del volto straordinariamente dolce. Questa eccezionale possibilità, che spesso doveva essere a servizio di un istrioismo di occasione, spiegava la suggestione che aveva esercitato non solo sulle masse, ma anche su individui che originariamente ostili si erano lasciati conquistare. Aveva pronunziato le ultime parole con tono rassegnato. Istintivamente mi senti preso da un senso di pietà, la pietà che un animo ben nato sente per chi è caduto dal piedistallo. Riccardo Lombardi accanto a me mormorò, in fondo mi fa una grande compassione. Fu un momento. Subito dopo pensai alle responsabilità dell'uomo, a tutto quello che aveva sacrificato per la sua ambizione. Un secolo di lotte e di sacrifici pareva annullato. La patria percorsa da eserci di nemici e stranieri che la calpestavano e ne deturpavano i più nobili lineamenti, come conclusione delle sue ultime gesta, lo spettro della guerra civile. Sollecitammo ancora Mussolini a prendere una decisione. Alla fine disse che avrebbe parlato con Wolf e che per le ore venti ci avrebbe dato una risposta. Restammo soli nella sala. Don Corbella mi presentò l'ex prefetto Tiengo, il quale chiedeva di parlarmi a quattro occhi. Mi assicurò che il generale Diamanti, comandante regionale a Milano, aveva preso un contegno indipendente dei tedeschi e voleva che io avessi un appuntamento con lui per trattare. Dichiarai che vi era poco da trattare, resa e consegna delle armi. Erao persuaso che le milizie fasciste non avrebbero atteso molto ad arrendersi, o meglio, a disperdersi. Entrò nella sala Pertini, era alquanto eccitato, cosa in lui non infrequente. Ritornava dalla periferia della città o aveva arringato gli operai e dove erano già accaduti fatti di sangue. Venne poi introdotto il vice console tedesco Wolf con un suo interprete. Erano presenti, oltre al cardinale, al monsignor Bicchierai, al monsignor Corbella, anche Arpesani, Marazza, Pertini ed io. Si fece presente al Wolf l'urgenza della resa, se si volevano impedire ulteriori danni. Intervente concitato Pertini, pretendendo che la situazione tedesca fosse subito chiarita, o resa o guerra. Wolf, tipo di diplomatico corretto e sorridente, manifestava ogni buona volontà, ma non riusciva a comunicare con il suo omonimo comandante delle SS, dal quale dipendeva la decisione. Accennò alla moderazione con la quale i tedeschi avevano eseguito le distruzioni. Poco dopo la partenza del console tedesco giunse anche il rappresentante comunista del CLNI sereni la discussione riprese vivace. Evidentemente i partiti sinistra, nella tema che l'iniziativa passata ai partiti di destra significasse una soluzione di compromesso e impedisse lo scoppio della progettata insurrezione, intendevano prendere parte attiva alle trattative. Si decise di inviare un ultimatum a Mussolini. Alle ore 21 si venne a sapere che Mussolini e Graziani avevano deciso di rompere le trattative e di partire. Ricostruendo gli avvenimenti mi sono poi sovvenuto del fatto che nella sala era rimasto il prefetto Tiengo, il quale si era allontanato solo dopo aver ascoltato le minacciose espressioni di Pertini. Probabilmente egli si era recato in prefettura ad avvertire i gerarchi che le trattative erano passate in mano degli uomini di sinistra, dei quali nulla di buono vi era da sperare. Per mio conto appresi con soddisfazione la notizia della partenza, nello stato di eccitazione in cui si trovavano larghi strati della popolazione con quali mezzi avremmo salvaguardato la vita dei gerarchi che si fossero consegnati nelle nostre mani. Uscimmo sul tardi con Arpesani per una porta di servizio, imboccata una stretta strada nella semi-oscurità venimmo fermati da un milite con un mitragliatore spianato, facemmo premurosamente dietro fronte e ci avviammo per via Meravigli. Il corso magenta, completamente deserti. Nel parlare più tardi col cardinale Schuster di quella seduta venne a conoscenza di un gustoso episodio, allorquando Mussolini giunse alla determinazione di abboccarsi con me per trattare la resa, pregò Sua Eccellenza di mandarmi a cercare. Avendogli Sua Eccellenza risposto che entro un'ora sarei stato presente, Mussolini avrebbe esclamato «pensare che da un anno lo cercavamo inutilmente». Secondo il cardinale l'atmosfera del convegno si era fatta a un certo punto tanto tempestosa da temere che qualcuno ponesse mano alle armi. Io non ebbi questa sensazione. I rapporti si mantennero formalmente corretti e anche lo sfogo di Mussolini dava più che altro l'impressione di una parte, di una parte, c'è un pezzo che non si legge, rappresentata, una parte forse non rappresentata. E qui finisce il capitolo «La vigilia dell'insurrezione». Io devo dire che questa testimonianza è di un valore estremo, di una passionalità, di un... a me emozione. Non so se si è percepito, nel senso anche questa conciliazione che mi è sembrata naturale nell'esprimere nella lettura, perché non è perfetta, ma che in qualche modo mi permette di offrire il mio contributo nell'interpretazione di questo passo che offre un quadro perfettamente corretto, secondo me, nella definizione di un una parte decisa, consapevole, ovviamente le varie anime che abbiamo detto, le varie anime partitiche, l'elemento, lo spettro così ampio del CNL Alta Italia, con una sua connotazione politicizzata, ovviamente, ma evidenzia sottofondo, un sottofondo di determinazione, di consapevolezza nella... non solo nella vittoria, ma anche nell'essere nel giusto rispetto a esponenti come Graziani, Mussolini e compagnia cantando, che invece si arrampicano sugli specchi, in cui cercano il dettaglio, cercano l'elemento di frizione per cercare di riportare l'acqua al proprio mulino, un mulino ormai sgangherato, un mulino che ormai non serve più a nulla, neanche la fedeltà, la presunta fedeltà che si può rivolgere verso i tedeschi, visto che i tedeschi che hanno accusato sempre l'Italia di doppio giochismo, di tradimento, di voltagabbanismo, eccetera, eccetera, invece i stessi tedeschi erano sempre stati profondamente egoisti e profondamente legati a un proprio codice... etico, mi vorrebbe dire etico, ma non è etico, è a etico nella definizione dei rapporti con le controparti, e quindi qui, diciamo, si calano le carte, si sostanzialmente, ma di quale fedeltà state parlando? I tedeschi non sono mai stati fedeli se non a loro stessi, quindi voi abbiate la dignità oggi, forse, di poter prendere le vostre decisioni e nel cercare di trovare una soluzione che sia la più confacente, la più dignitosa, la più sana per l'Italia, e questo è l'elemento, secondo me, fondante, l'elemento di estremo patriottismo che paradossalmente la resistenza offre a Mussolini. Qui Cadorna dice Mussolini ha sempre fatto gli affari suoi, è sempre stato un egoista, è sempre stato un megalomine, è sempre stato un accentratore di parte, non ha mai fatto nulla veramente per l'Italia, ecco, siamo stati noi a offrirgli, forse per la prima volta, l'occasione di fare qualcosa per la nazione tutta, indipendentemente dalle fazioni, dagli egoismi, dalla guerra civile, eccetera, 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 quindi per me è una lettura di grandissimo valore. Quindi, detto questo, ricordando ovviamente in questa circostanza e per l'ennesima volta il generale Raffaele Cadorna, una figura di cui si parla sempre poco, di poco, ed è una cosa negativa, bisogna parlarne di più, perché è una figura di grande valore, si parla spesso del padre, lasciamo perdere i giudizi sul padre, diciamo che è un dibattito sempre aperto, sempre, parliamo però di Raffaele, Raffaele Cadorna Junior, che veramente ci offre anche in queste pagine la sua caratura morale, e qui diciamo che vi rimando a domani, vediamo un po' come strutturare la lettura del capitolo successivo, ma secondo me ci offrirà anche in quella circostanza, nel modo in cui cercherò di proporvelo un modo degno, decoroso, valido e opportuno di ricordare il 25 aprile. Detto questo, come alzò vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!